ciao a tutti ragazzi sono giuseppe benvenuti in un nuovo video che sarà probabilmente per niente montato che ovviamente non mi sono organizzato per bene siamo oggi 14 febbraio 2023 oggi è san valentino io da quanto vivo qui in giappone ho sempre fatto qualcosa che sia preparare dei dolci comprare regali comprare dolci già pronti e quest'anno non avevo il tempo di fare nulla se non comprare dei fiori per i giuri io ero appena finiti a lavorare e tornare a casa e all'interno di questi fiori c'è un intruso di cioccolato perché a ventino non può mancare il cioccolato e ovviamente questo fiore bianco qui e nulla mi sa che riprenderò un attimo la sua reazione questo video sarà reactions a valentino non come gli altri due che ho preparato prima di questo che erano soprattutto l'ultimo mi pare quello in bianco e nero e vabbè cercherò di fare una ripresa di nascosto potete vedere un po la sua reazione metto il telefono nel divano e vediamo un po all'inizio farò finta che non mi sono ricordato san valentino perché veramente sta succedendo questa cosa per fortuna me l'ha ricordato lei e dopo tutta la scena di gioia di mario merua gli darò i fiori e vediamo un po come reagisci cosa farà uno ha 声 in freddo Mi auto sono arrivati Ma cosa è che everyone sozziato? Noi sono anche nei ero che non sozziati o no, ma i voi lo sozziato! Perciò che non sozziati Ma è piacere di perdere Questa è migliore di conto? Perché? Si. What are you making? No, you did it obviously. Why are you talking? Because there is no room. No, no, it's okay. I will wait. I'm not sure. Because you're not good at it. I'm not good at it? What? What are you talking about? What are you looking at? What are you looking at? Anyway, you're gonna sit here. Okay? Because that's my seat. It's so cute. Wow, so cute. Oh, it's so cute. I'm looking at it. It's so cute. It's so cute. E quindi dove c'è il bagage? Ah, scusate. No, I need it, I need it. Eh, scusate. Where? Perché sassi? Perché sassi? Perché sassi? Perché sassi? Perché sassi? Perché sassi?